bene con questo tempo brutto mi sa che oltre a dire buongiorno buon pomeriggio mi sa di dire già buona serata a tutti scherzo ovviamente il vero motivo di questo nuovo video parlando di under taker del vecchino imprenditore di pombe funebri come conosciuto tale allora taker potrebbe combattere secondo le indiscrezioni a presto almeno a 36 contro sting match che in realtà si doveva tenersi secondo alcune speculazioni su internet già dall'anno scorso due anni fa match voluto soprattutto direi da sting dal suo forte desiderio di affrontare taker in realtà il vecchino si sta allenando si sta allenando perché lui in realtà si si pensa che voleva un match già per super show down il 27 febbraio ma sembra che non sarà possibile vederlo in azione in arabia saudita ma quasi sicuramente o meglio il 99 per cento si dice appunto che under taker presenzierà e lotterà a brest elmenia e come all'immagine di video copertina l'avversario probabile potrebbe essere sting grazie a tutti ci vediamo più tardi ciao